Buonasera, buonasera, benvenuti, bentornati a Linea d'Ombra per te. Questa sera partiamo subito alla grande, innanzitutto buon anno, partiamo alla grande perché abbiamo qui Letizia Moratti, buonasera. Buonasera, allora buon anno. E buon anno perché è la prima puntata dall'inizio dell'anno che come sapete è candidata alla presidenza della regione Lombardia, candidata civica e anche con il sostegno del terzo polo. Allora per far condizio ci diamo del tu, se va bene. Mi fa molto piacere, sono d'accordissimo. Così sfatiamo questa immagine che Letizia Moratti fredda, algida. Sì, per favore, grazie. Ma perché pensano questo, secondo te? Ma guarda, secondo me perché a volte mi fanno delle riprese. Sì. Dopo situazioni particolari, non so se ho avuto una riunione importante, difficile, eccetera. Allora sei magari un attimo più, come dire, rigida, impossata. Poi però io nella mia vita sono una persona normale. No, infatti è entrata con le sue gambe tranquillamente, si è seduta e ha bevuto l'acqua, come tutti noi. Come tutti noi. Senti, ma allora questa è un'avventura abbastanza impegnativa, no? Cercare di scalare la regione Lombardia. Quando è nata l'idea proprio di dire mi candido e lo voglio fare in maniera seria? Cioè quando è che hai deciso, che ti è scattata la molla? Ma guarda, direi che quando ho deciso di lasciare, perché non mi ritrovavo con le politiche, diciamo, sui vaccini da parte del governo. E poi dopo parliamo anche di quello di adesso. Però ovviamente quella è stata la decisione, che è stata la prima decisione, lasciare la... Quando è stato deciso dal governo che i medici no vax potevano essere reintegrati. Sì, praticamente è una politica molto ammiccante nei confronti dei no vax, quindi reintegro dei medici no vax, non far pagare le sanzioni ai cittadini che dovevano vaccinarsi, non si sono vaccinati. Non mi sembrava che tra l'altro per la nostra regione così colpita, così con questo grande senso civico che ha portato i cittadini comunque volenti o non volenti, anche magari quelli che non avevano voglia a vaccinarsi, mi sembrava effettivamente, non mi ci ritrovavo. Quindi quello è stato il primo passo? Poi ho pensato che io avrei lasciato un lavoro incompiuto perché quando io sono arrivata ho preso tre impegni nell'ambito della sanità, quindi piano vaccinale da rimettere a posto, la sanità territoriale da attivare e le liste d'attesa da azzerare. Ho iniziato, però non ho potuto portare a termine il lavoro né sulla legge di rafforzamento della sanità territoriale né sulle liste d'attesa. Poi dopo ci dici come intendi invece risolverli questi. Esatto, e quindi mi è sembrato naturale dire no, io so come intervenire, so cosa fare. Voglio fare quello. Voglio farlo. E oltre a quello poi ho anche pensato un'altra cosa, la Lombardia non cresce da dieci anni. Sì. Abbiamo un indice di competitività che è sotto la media europea, abbiamo due province, Lodi e Pavia, che hanno un pil pro capite sotto la media nazionale e altre due, Varese e Sondrio, che sono al limite. Se non cresce la Lombardia non cresce l'Italia. Quindi io ho pensato che così come sono riuscita a far crescere Milano, ad attrarre investimenti a Milano, a far sì che Milano diventasse quello che è diventata, cioè una città capace di essere una delle... E' cambiata moltissimo Milano, no? Dopo la gestione tua, ma anche quella di Pisa Pia dopo è cambiata completamente. Sì, però devo dire, guarda, soprattutto è stato Expo che ha cambiato la città. Ecco, io so di poter raggiungere dei risultati e ho ritenuto di mettere la mia esperienza al servizio della mia regione. Come ho fatto con Milano, avendola fatta crescere con Expo, il metodo Expo, chiamiamolo così... Applicare il metodo Expo anche alla regione. Anche in regione, ho già iniziato. Allora, visto che abbiamo citato la sanità, entro subito in un argomento, poi facciamo un ping pong tra i contenuti e la politica, così... Se avete delle domande da farci potete usare il WhatsApp, come al solito. Le liste d'attesa, io volevo delle risposte più possibile concrete, perché le liste d'attesa penso che siano, insomma, la cosa che i cittadini lombardi sopportano meno, perché la sanità funziona bene, abbiamo dei centri d'eccellenza, questo lo dice anche il centro-sinistra, questo è oggettivo. Però le liste d'attesa, quando senti che per un appuntamento devi aspettare un anno, non è da regione Lombardia. Allora, praticamente, come si risolve? Allora, partiamo da quello che ho trovato. In regione non c'era una mappatura delle liste d'attesa per struttura, per patologia e per tempi di sforamento. Ho fatto fare una mappatura, ho preso delle professionalità che hanno iniziato a controllare le strutture e ho fatto delle delibere che hanno penalizzato le strutture accreditate, private in particolare, che non rispettano i tempi di attesa con una progressione di decurtazione di risorse dal 5% fino al 50%. Quindi praticamente se non rispettano le liste d'attesa gli date meno soldi. Esatto. Allora, questo che cosa ha portato? Ho iniziato con i ricoveri chirurgici oncologici, la situazione era del rispetto dei tempi di attesa era del 60%, il che significa che su 100 persone 40 erano operate fuori tempo massimo. E qua stiamo parlando della vita delle persone. A questo punto, vita o morte, a questo punto con queste azioni in meno di un anno abbiamo dimezzato questo numero. Quindi con la minaccia di togliere i soldi. Esatto. Gli abbiamo tolti. Non è stata solo una minaccia, li abbiamo realmente tolti. E siamo passati dal rispetto del 60% al rispetto dell'80% l'anno scorso. Quest'anno so che è già di più, ma non lo posso dire perché i dati dell'anno scorso sono certificati da Agenas, mentre quelli di quest'anno io li so, ma non sono ancora certificati, però so che è già migliorato. Quindi quella potrebbe essere una leva. Esatto. E poi? Non è che manca anche del personale negli ospedali? Diciamo che manca del personale, lì il tema è una programmazione nazionale, perché il personale viene programmato dai due ministeri, salute e università. Una programmazione che negli anni non ha, come dire, non ha pianificato in maniera corretta. Per esempio, mancano gli anestesisti, manca il personale del pronto soccorso, andrebbe fatta una programmazione che incentiva a quelle specializzazioni. Però questo lo può fare il governo, non lo può fare il presidente della regione. Esatto. Esatto. Quindi questa è politica del governo. Come è politica del governo l'incremento della spesa in sanità, che purtroppo... Perché attualmente la spesa sanitaria della Lombardia sono 20 miliardi, quindi è tantissimo. Sì, è tanto ed è anche poco, perché noi dovremmo comunque poter pagare di più anche i nostri medici. Ma ad esempio aver tolto l'IRAP ad alcune categorie ha tolto dei fondi al servizio sanitario. Cioè, come si fa a incrementare la... No, beh, il servizio... Allora, noi abbiamo un servizio sanitario nazionale che ha una ripartizione sulle regioni a seconda del numero di persone. Sì, ebbene, la Lombardia è con 10 milioni quella più popolata. Questo è quello che abbiamo e con questo quadro economico noi dobbiamo ovviamente... Cioè, i soldi sono quelli. Eh sì, certo. Invece, per quanto riguarda i medici di base, l'altra protesta che noi abbiamo sempre è quella dei medici di base, che non rispondono al telefono, che non ricevono, eccetera. Ora, i medici di base sono liberi professionisti, hanno un contratto ridicolo, no? Perché sono 15 ore, mi sembra. Sono 15 ore alla settimana. Quindi, e quello alla regione non ci può fare niente, no? Quindi questo lo diciamo sempre. Però la mia domanda è, non sarebbe meglio, adesso mi rendo conto che ho una domanda un po', che i medici di base fossero dipendenti pubblici? E quindi poter intervenire direttamente, anche per le case di comunità, perché a quel punto sarebbe un rapporto più diretto. Allora, diciamo che il sindacato dei medici è un sindacato molto forte, e quindi questo non è mai stato possibile. Però, io avevo lavorato con il governo Draghi, avevamo un provvedimento che era pronto ad andare in consiglio dei ministri, ed era un provvedimento che avrebbe aumentato di 5 ore la libera professione, dando invece in regime di parasubordinazione altre 18 ore in più, quindi equiparando i medici di base ai medici ospedalieri, alle regioni, in regime appunto di parasubordinazione. Parasubordinazione cosa vuol dire? Vuol dire che le regioni possono indicare e finalizzare il lavoro. Quindi io, medico di base, passerei da 15 a 20 ore? Passo da 15 a 20 ore come libera professionista, e faccio quello che voglio nel mio ambulatorio, eccetera. E poi? Do 18 ore alle regioni, e le regioni decidono dove mandarmi. Quindi mi mandano in una casa di comunità, mi mandano... E che fine ha fatto questo progetto? Allora, questo progetto è nel cassetto del ministro... Schillaci, attuale, perché era di speranza. Esatto, ed era pronto ad andare in consiglio dei ministri. Allora, io faccio un appello a... Ministro Schillaci... Ministro, per cortesia, tiri fuori questo documento dal cassetto. È un documento che aveva anche l'accordo delle principali forze di politica... I sindacati dei medici di base gli andava bene. Erano d'accordo, erano d'accordo. Perché sono loro che devono... Erano d'accordo, esatto. E quindi questo sarebbe fondamentale per la medicina territoriale. Eh sì, perché... Perché se no le case di comunità rischiano di essere... Vuote. Beh, ma vuote no, perché comunque per fortuna, ad esempio, i medici giovani hanno capito l'importanza delle case di comunità, perché nelle case di comunità hanno gli infermieri, hanno il personale amministrativo, hanno le segretarie, hanno gli specialisti, e quindi i medici giovani che non hanno, come dire, un ambulatorio alle spalle, che non hanno... Allora, per loro è tutto di guadagnato. Per loro va benissimo. Ma le case di comunità sono realizzabili a Milano? Perché in provincia è più facile. No, certo che sono realizzabili. Ecco, ci credi? Sì, sì, ne abbiamo già attivate due, abbiamo già attivato due case qua a Milano. Quindi l'idea sarebbe quella di rafforzare le case di comunità con anche più medici, con più ore dei medici. Sì, sì. L'aspetto della sanità, tu sei entrata nella regione Lombardia come assessora alla sanità in uno dei momenti più bui della nostra regione. Quanto è stato difficile? Guarda, non è stato. L'impegno è stato, dal punto di vista delle mie responsabilità pubbliche, è stata la cosa più difficile che ho fatto. Più difficile di fare... Più difficile è quello di decidere di candidarsi alla guida della regione? Beh, è stato diverso. Lì, guarda, mi sono trovata, quando me l'hanno chiesto, me l'hanno proposto, me l'hanno chiesto, me l'hanno sconsigliato tutti. Sì. Tranne i miei figli. Però io vedevo da fuori le cose che non funzionavano, i piani vaccinali dove le persone anziane venivano mandate a 100 chilometri di distanza, quindi nella sanità le decisioni sono legate appunto alla vita e alla morte. No, poi in un periodo di pandemia... E in un periodo come quello... Esatto. Quando vedevamo andare via i camion con le bare, cioè... Esatto. E quindi mi sono sentita di accettare perché mi sono sentita... L'ho sentito proprio come... Che voto ti daresti quando hai fatto l'assessore alla sanità in quel periodo? Ma io no, non penso di essere io a dovermi dare i voti, me lo devono dare i cittadini, dai. Non te lo vuoi dare? No. Senti, cosa pensi dei Novax? Allora, penso che non esiste una base scientifica che giustifichi Novax. Li rispetto per carità perché tutte le libere opinioni le hanno rispettate. Penso che si mettono a rischio anche le persone fragili, cioè... Non vaccinandosi. Beh, non so, medici Novax o insegnanti Novax mettono a rischio bambini o persone anziane. Cioè... Attualmente la nuova normativa del governo prevede che dopo cinque giorni di positività non sia più obbligatorio il tampone d'uscita. Questo, faccio un esempio, nella nostra redazione, noi siamo in otto nella stessa stanza. Se uno di noi, un open space, se uno di noi finisce cinque giorni e non fa il tampone d'uscita perché la legge non glielo chiede più, torna, è ancora positivo, infetta tutti. Cioè, tu di questa nuova normativa... No, ma, infatti, io ho visto e poi ho continuato a vedere delle azioni del governo che vanno tutte in questa direzione. Per esempio, io avrei tenuto una posizione completamente diversa sui voli che arrivano dalla Cina. Cioè? Cioè, non il tampone solo dai voli diretti dalla Cina, ma il tampone da qualsiasi scalo... Però poi, se fai il tampone, vieni fuori che uno è positivo e poi non lo controlli. No, no, vabbè, no, devi metterli nei covid hotel, eh. Devi metterli nei covid hotel. Certo. Allora, io avrei preso questa posizione da presidente della regione. Il governo non l'ha presa, l'attuale presidente neppure, per fortuna qualche giorno dopo l'ha presa l'Europa questa decisione. Però contemporaneamente la Cina adesso ha lasciato tutto libero. Come la spieghi da persona che si è occupata di sanità? Non la spiego, nel senso che forse era eccessivo il lockdown che hanno fatto prima. e non si può passare da un lockdown rigido come quello a un liberi tutti. Cioè, ci deve essere, come dire, una gradualità, un controllo, insomma. Due domande da casa. Gli specialisti stanno scappando dal pubblico verso il privato. Aspetta che l'ho persa. Hanno più libertà economica facendo loro le parcelle. Come si fa a evitare che scappino dal pubblico? Il tema è un tema di remunerazione. Cioè, il pubblico dovrebbe poter avere maggiori disponibilità economiche. Era un po', Adriana, il tema che ti dicevo prima. Il governo deve investire di più in sanità. Sì. Noi, in questo... Se tu vinci le elezioni, premi perché il governo... Assolutamente. Guarda, quest'anno apparentemente il governo ha investito di più. Apparentemente. Perché se invece vai a vedere la spesa sul PIL. L'anno scorso eravamo a spesa sanitaria sul PIL, eravamo a un 7%. Quest'anno siamo scesi... 2023. Quindi questo governo siamo scesi al 6,1, 6,2. Quanto contano i numeri nel governo di una regione? Cioè, le percentuali, i conti, questo aspetto... Conta, assolutamente. Cioè, devi far quadrare i conti. Devi far quadrare i conti. Devi ottimizzare le risorse. Cioè, la regione ha una gestione complessa. Però devi farlo in un modo che secondo me non è il modo col quale viene fatto attualmente. Ecco, infatti adesso io poi ti voglio chiedere cosa vuol dire essere moderati. Perché quando si parla del terzo polo, il terzo polo è quello moderato. Allora adesso mandiamo alla pubblicità e poi ci spieghi cosa vuol dire essere moderato, cosa vuol dire essere di destra, cosa vuol dire essere di sinistra. Perché visto che sono tre i candidati principali, cerchiamo di capire geograficamente dove si colloca Letizia Moratti. A tra poco. Allora, rieccoci, siamo sempre con Letizia Moratti che è candidata alla presidenza della regione Lombardia. Abbiamo parlato tanto di sanità. Adesso volevo una definizione di essere moderati, cosa vuol dire. Perché abbiamo tre candidati principali. C'è Atilio Fontana con il centrodestra, per Francesco Maiorino col centrosinistra più Movimento 5 Stelle. E poi c'è Letizia Moratti. Dove sta Letizia Moratti nella geografia dei partiti? Allora, da un lato c'è un candidato di centrodestra, Atilio Fontana, che dice che va tutto bene. Sì. Dall'altro c'è un candidato di centrosinistra, che è Maiorino, che dice che è tutto da rifare, che non va bene niente, che è tutto da rifare. Io sto in mezzo, nel senso che secondo me non è vero che tutto va bene, ma non è neanche vero che tutto va male. Cos'è che va bene e cos'è che va male? Dimmi una cosa che va molto bene e una cosa che va molto male. Guarda, una cosa che va bene per esempio è l'adotto e scuola. Sì. Un'altra cosa che va bene è la sanità ospedaliera. Sì. Abbiamo dei centri d'eccellenza, è il solito discorso che vengono persone... Però ci sono anche tante cose che non vanno bene, cioè i trasporti pubblici non vanno bene. Poi adesso poi parliamo di trasporti pubblici. Ecco, allora tra dire che tutto va bene e dire che tutto va male, secondo me essere moderati significa cercare di essere concreti, di avere buon senso e di dire tengo le cose che vanno bene e le tengo tutte. Ok. Però so che ci sono tante cose da migliorare. Questo nei contenuti e nei modi cosa vuol dire essere moderati? Beh, essere moderati significa essere pronti al dialogo, ascoltare. Per esempio io sto facendo una campagna elettorale di grande ascolto con le categorie che rappresentano gli interessi ma anche nei territori. Sì. Ma anche con delle possibilità di capire delle cose. L'altro giorno guarda ero a Robbio che è un piccolo paese della bassa Lomellina e ho incontrato dei volontari che mi hanno segnalato per esempio che non lo sapevo, non era uscito mai. che in Piemonte vanno in pensione cinque anni più tardi che da noi. Quindi molti stanno emigrando in Piemonte perché in Piemonte possono continuare il loro volontariato. Ecco, queste sono piccole cose. Ieri parlavo con degli imprenditori in una fabbrica di cioccolato a Cerro Maggiore. E' buonissima, fantastico, io poi sono golosa, quindi fantastico. E abbiamo insieme visto che c'è un problema relativo alla formazione professionale dei maestri cioccolatai che non c'è. Quindi ci sono tante cose che escono, che i territori ti portano, che le persone... Quindi l'ascolto, dici, la mediazione è anche una forma di mediazione. Sì, è anche una forma di mediazione. E invece una cosa che ho visto, ho letto una dichiarazione tua che mi ha colpito, che parlando invece, spostandoci a sinistra, uno dei temi forti della sinistra sono i diritti, non la tutela dei diritti. Su questo com'è messa Letizia Moratti? Ho letto che tu hai, non so se è vera questa cosa, che hai detto che hai sbagliato a non concedere il patrocinio al gay pride. L'hai detta veramente questa cosa? Sì, sì, l'ho detta veramente. Ma guarda che io sul tema dei diritti, io sono impegnata su questo tema da tanti anni. Io ho, per esempio... Cioè, sfatiamo il mito della Moratti oscurantista. Guarda, io ho, per esempio, fatto una collezione artistica che si chiama Arte e diritti umani. E per diritti umani c'è una gamma vasta di diritti umani, quindi ci sono opere d'arte che mostrano il genocidio che c'è stato in Ruanda, c'è un'opera d'arte che mostra gli afroamericani uccisi dalla polizia americana nel 2016, c'è un'opera che mostra un'artista fotografa lesbica che si batte per le lesbiche in Africa. Quindi, cioè... Eh, ma questa cosa del patrocinio, quindi ti sei fatta con voi? Guarda, uno anche nella vita, anche, come dire, io penso che non si debba sempre essere fissi, ancorati... Cioè, si può cambiare idea? Sì, secondo me la coerenza non è essere sempre delle proprie idee, propri principi, propri valori, sì, ma uno può anche capire... Matrimonio tra omosessuali sì o no? Secondo me sì. Adozione tra copie omosessuali? Quello lo lascerei... tendenzialmente sì, però capisco che è più delicato, perché c'è un tema che poi riguarda i bambini che vanno a scuola, che possono sentirsi diversi dagli altri bambini, quindi... Anche se in alcuni paesi come negli Stati Uniti ormai è una cosa abbastanza normale, quindi noi rischiamo di rimanere indietro su questo tema. Perché è ovvio che la difesa della famiglia è fondamentale, tra l'altro è fondamentale in un paese come l'Italia, dove c'è un tasso di denatalità che purtroppo è molto elevato. Sì. Cioè, da noi... E come si fa a favorire la natalità? Con delle politiche a favore delle famiglie, quindi sicuramente la parità salariale tra uomo e donna, i congedi parentali più lunghi e anche per i papà, Gli asili nido? Eh sì, gli asili nido, assolutamente, gli asili nido, i bonus. Io tante cose, per esempio, da sindaco le avevo fatte. Avevo fatto il bonus per le mamme quando sono incinte, hanno timore di perdere i figli, sono in dubbio, eccetera, incentivavo le nascite. Eh, però la 194? No, beh, ovvio, la 194 va risultata. Ma mi piace la reazione emotiva che hai avuto. No, no, certo, quella non si tocca. La reazione emotiva è quella che dimostra la verità. Non si tocca. Perché se fa così vuol dire che, ok, su quella non si tocca. Io, per esempio, avevo facilitato dando degli incentivi per le mamme per il primo anno di nascita dei bambini. Ok. Dividerei, cioè il tema dei diritti è un tema, il tema dell'importanza della famiglia e della nascita. Ma è famiglia anche quella di una coppia non sposata, è famiglia anche di una coppia divorziata, è famiglia. Assolutamente sì. E non è questo, bisogna dirlo, perché... Ma perché tu pensi che le persone pensano che io... Non lo so, però noi questa sera siamo qui per spiegare... Anche per spiegare queste cose, assolutamente. L'ultima cosa sui diritti è l'eutanasia, volevo sapere, su quello cosa ne pensi. No, l'eutanasia... Non... Anche se non è nelle competenze del presidente della regione. Però è giusto conoscersi. È molto pericoloso lasciarla anche a chi poi deve... Ha potere di vita o di morte sulle persone. Ok, su quello hai qualche perplessità. Va bene. Che non significa l'accanimento terapeutico. Sì. Perché sono due cose diverse. Ok. Senti, a proposito di destra e sinistra, invece, cos'è che ti differenzia di più da Fontana e cosa ti differenzia di più da Maiorino? Beh, da Maiorino, visto l'alleanza che ha fatto con i 5 Stelle, visto, credo, anche quello che ha dichiarato anche oggi, che lui è comunque favorevole al reddito di cittadinanza, se è una misura nazionale, quindi ovviamente sarebbe, immagino, favorevole anche per la Lombardia. Ma a reddito di cittadinanza tu sei contraria in quanto politica attiva o in quanto sussidio? In quanto sussidio. Ok. Ma io farei un reddito di formazione, non un reddito di cittadinanza. Cioè per insegnare un mestiere? Sì. E quelli che non possono lavorare? No, quello è diverso. Quelli che non possono lavorare indubbiamente hanno diritto. Ok, va bene. E invece cosa ti differenzia di più da Fontana, visto che avete anche lavorato insieme? Ma mi differenzia secondo me il metodo, il metodo di lavoro. A me piace lavorare in squadra, non mi piace lavorare a silos, mi piace lavorare in maniera, come dire, dandomi degli obiettivi di breve, di medio, di lungo, con dei riscontri. Cioè è un metodo di lavoro diverso. Hai in mente la squadra se dovessi vincere le lezioni? Sì. Cioè ce l'hai già... Sì. Ok. Non tutta. Però un pezzettino sì. Un pezzettino sì. Un pezzettino sì. Va bene. Adesso facciamo l'ultima pausa, poi volevo sapere qualcosa sui trasporti, no? Visto che dicevi che il trasporto pubblico è uno dei punti dolenti dell'attuale regione Lombardia, vediamo cosa cambieresti e come lo cambieresti. A tra poco. Allora, sempre con Letizia Moratti abbiamo toccato la sanità, abbiamo toccato la politica, volevo toccare altri due temi di competenza regionale che sono i trasporti e le case popolari. Poi un'altra cosa, rapidamente, è stato qui Maiorino, starà qui anche Fontana ma tutti separati, vedervi insieme è impossibile. Ma io l'ho chiesto. Io mi offro. Io l'ho chiesto e anche Maiorino. Io credo che sia al di là del fatto che è nei confronti nostri che forse è dovuto, è un confronto, la democrazia è fatta di confronti, ma poi è dovuto nei confronti degli elettori, poi non... E' lui che non vuole, è Fontana che non vuole. E' Fontana che non vuole, ma poi non lamentiamoci se abbiamo un'alta percentuale di persone che non vanno a votare, cioè è un disincentivo alla partecipazione. Ma perché vedo che arrivano un sacco di domande. Ah, ti avviso che quasi tutte le domande sono sulle liste d'attesa. E' certo. Cioè sono persone che raccontano le loro storie. Certo. E quindi quello ti avviso che quello sarà l'ostacolo principale. Sì, poi per fortuna l'altro giorno ero a Sondrio e una persona mi diceva che per fortuna con queste aperture che noi abbiamo fatto serali, festive, più festive, lui è riuscito ad avere una prenotazione rapidissima. Che poi un altro problema è che se uno è in gamba, non solo penso quando devo cercare una visita fra mia mamma che è anziana, mi metto lì e telefono a tutti i posti. Ci fosse il centralino unico dove metti insieme sia il pubblico sia il privato sarebbe molto... Quello è una delle altre cose che ho trovato che non funzionavano, cioè i sistemi digitali della Lombardia... Quella è una cosa che se funzionasse... Non funzionavano per nulla, non c'era... Quello prende un impegno a sistemarla questa cosa. Sì, assolutamente sì. Ok, va bene. Trasporto pubblico. Tu hai detto Trenord non funziona, facciamo una gara per fare cosa? Allora Trenord è in regime di monopolio, quindi siccome da sempre che Trenord ha il servizio regionale, tu mi insegni che quando non c'è concorrenza non è che sempre le cose vanno bene, tant'è vero che Trenord non dà un servizio efficiente, cioè settimana scorsa a Monza sono stati cancellati cinque treni, da Pavia ti colleghi più facilmente con Vienna che non con Milano. No, poi ci sono carrozze vecchie, non c'è sicurezza, sono i problemi di Trenord... Per me, io sono andata a vedere, a verificare cosa viene fatto in altri paesi, ho visto in Germania, ho visto in Francia, ho visto che là dove è stato messo a gara il servizio c'è stato un miglioramento della qualità e un abbassamento anche sostanziale dei costi. Ecco, il Movimento 5 Stelle ha commentato questa cosa dicendo non si risolve privatizzando, facendo la gara, ma si risolve rendendo tutto ancora più pubblico. Cioè, la privatizzazione qualcuno la vede come un modo per guadagnare. Ma non è una privatizzazione, è una messa a... Una gara. Allora, scusami, ma MM che è pubblica, che è la metropolitana milanese, quando io ero sindaco ha vinto una gara a Copenaghen, ed è pubblica, quindi non è che è precluso al... Ok, quindi la gara vuol dire pubblico e privato che concorrono. Assolutamente, certamente. Questo sarebbe un modo per migliorare i servizi. Sì, perché nel momento in cui metti in competizione un servizio, ti assicuro che il servizio migliora. Quando non c'è competizione, uno si adagia. Ma secondo te il problema principale è che ci sono le ferrovie vecchie o che ci sono i pochi vagoni? Cioè, bisogna aumentare il numero dei convogli o bisogna migliorare il sistema ferroviario? No, bisogna intervenire sulle modalità con le quali si servono le diverse località. Quindi bisogna intervenire per capire se un servizio va fatto a una certa ora, con una certa frequenza, con dei treni che funzionano. Il discorso della mappatura che dicevi prima. Esatto, è la stessa cosa, è quello che ho fatto nella sanità. Io nella sanità ho fatto un'altra cosa. Ho individuato i bisogni da qui ai prossimi dieci anni, comune per comune. Quindi io ti so dire che, per esempio, a Cremona, tra dieci anni, il problema prevalente sarà il problema degli anziani e quindi se devo aumentare, aumento le residenze per anziani. E secondo te questo approccio così non è stato fatto? Non c'è, non c'è. Ecco, questo quando io ti dicevo il metodo che mi differenzia da Fontana, è anche questo. È il metodo, cioè analizzare i dati, mapparli, fare i controlli. Ti faccio un altro esempio. Guarda, io ho trovato degli investimenti fermi dal 2004 in sanità. L'ospedale di Asola, 5 milioni di investimento, tra l'altro, fermi dal 2004. Perché? Perché non ci sono controlli, perché c'è una gestione che è molto lasciata andare, che è tipico. Ma questa l'ha fatta Fontana o c'era già prima? Guarda, è tipico di chi? Comunque, ormai è abituato a... È come Trenord. È un po' come Trenord. Cioè che non c'è concorrenza. Esatto. E io ho voluto portare un po' di concorrenza. Un po' di concorrenza. Senti, anche le case popolari sono in questa situazione. Perché lì, devo dire, che quando c'è stata la competizione tra MM e Aler, qualcosa si è mosso. Io parlo di Milano. A Milano è vero che la situazione è un po' leggermente migliorata. Assolutamente sì. Poi, se posso dire, ci deve essere più collaborazione tra MM e Aler. Che era quello che voleva fare Mattinzoli, ad esempio. Esatto, che è quello che voleva fare Mattinzoli. Io l'ho aiutato. E anche Maran, lo volevano fare tutte e due. Io l'ho aiutato in questo perché abbiamo avuto degli incontri che io ho chiesto col prefetto, col sindaco e quindi con le forze dell'ordine. Quindi siamo riusciti a creare una collaborazione. Perché tra l'altro io credo molto nella collaborazione tra istituzioni. anche se si è di colori politici diversi. Beh, tu con Sala hai già lavorato. Beh, io comunque... Cioè, se diventi presidente, lavorare con Sala non dovrebbe essere una novità. No, assolutamente no. Ma guarda, io anche col governo Prodi ho lavorato... Certo, per Expo. Esatto. Quindi per me la collaborazione istituzionale è fondamentale. Quindi, intanto collaborazione tra MM e Aler. Poi, indubbiamente, ci sono degli investimenti da fare. Noi in regione Lombardia abbiamo 110.000 anziani. È uno studio fatto da una grande fondazione. Abbiamo 110.000 anziani che vivono praticamente isolati in casa perché non hanno gli ascensori. Non c'è l'ascensore, eh sì. Esatto. Quindi, forti investimenti. Ecco, però dovrebbero arrivare 250 milioni dal PNRR. Sì, quindi forti investimenti. Ma non basta perché bisogna anche creare un mix abitativo diverso. Cioè? Vale a dire, non avere solo, diciamo, le persone che hanno necessità di casa popolare, ma le più povere, eccetera. Ma, per esempio, io l'ho fatto, gli infermieri, che sono comunque una categoria preziosa, e che non proprio non è che navigano nell'oro. No, c'è una richiesta pazzesca di infermieri. Ho fatto in modo di dare 200 appartamenti ALER agli infermieri. Gli infermieri portano all'interno della casa ALER un valore aggiunto. Per esempio, un'altra cosa da fare, dare agli studenti che a Milano hanno un grande problema di affitti, che sono troppo cari per loro, dare la possibilità di avere degli affitti scontati, se aiutano poi gli anziani nell'ambito dello stesso condominio. Un mix abitativo. Questo per evitare il ghetto degli anziani o il ghetto degli immigrati. Quindi sono tante le politiche da fare. Non ce n'è una sola. Sì. Però, messe tutte insieme... Quei tu dici non è solo una questione di mancanza di soldi, anche del come vengono gestiti. Assolutamente sì. E' questo che stai dicendo. Assolutamente sì. Senti, che rapporto hai con Bossi? Vi siete sentiti per la storia del Comitato del Nord? Ci siamo sentiti non recentemente, ci siamo sentiti. È un rapporto che ho storico. Certo. Quindi con Bossi, quindi ci siamo sentiti. Ma come va a finire questa cosa? Eh, magari alla prossima puntata. No, beh, entro un paio di giorni. Entro quando è il limite? Le liste sono entro il 13. Eh, quindi non è che abbiamo tanto... No, è vero. Non è la prossima puntata. Sarà in qualche altra trasmissione. Ecco, no. Perché voi avete già dei fuori... No, dei fuoriusciti. Gli ex legistici sono che sostengono i tutti i malatti. Però per me la cosa importante è il programma, i contenuti. Sì. È quello che io ho cercato di fare anche col PD. Non ci sono riuscita. Però io tra l'altro presenterò il mio programma il 12. Sarò la prima a presentare il programma. So che Maiorino lo presenta sabato. Fontana non si sa. Non è pervenuto. Non è pervenuto. Dopodanno lo aspettiamo la prossima settimana qui. Magari lo presenta qui. E quindi per me la cosa importante è il programma, i contenuti. E su questo mi sono impegnata, mi sto impegnando. Cioè tu dici chi mi ama mi segua. No. Chi ci sta. Chi si ritrova in queste proposte. Chi ha capito qual è la mia volontà. Che appunto non è quella di buttare tutto a mare. Ma è quella realmente di migliorare. Chi sa che io, sa che posso farlo. Perché i risultati, là dove mi sono impegnata, credo di aver dimostrato di darli. E quindi più o meno sempre, in tutte le occasioni. Se perdi resti in consiglio regionale. Ma io vinco. La sapevo che rispondeva così. Va bene. Noi ci vedremo ancora al programma di mezzogiorno. Con Stefania Cattaneo ci sarò anch'io. Quindi ci rivediamo. Grazie a chi ci ha seguito. Grazie a tutti. Vediamo il bus. C'è sotto l'autobus? Qua sotto. Sei venuta con l'autobus? No, stasera no. Ho lasciato riposare. Dove parcheggiato? No, anche perché parto domani mattina alle 6. Ah no, allora lasciamo l'andata. Quindi ho lasciato riposare le persone. E anche l'autobus. E anche l'autobus. Va bene. Grazie a Letizia Morati. Non è algida come sembra. In bocca al lupo. Pubblicità. E poi il dibattito con altri ospiti. Grazie.